Sento ripetere dai vari notiziali televisivi che c'è un assedio delle regioni nei confronti del governo per chiedere provvedimenti meno rigorosi. La regione Campania chiede provvedimenti più rigorosi, non meno rigorosi. La Campania sostiene una linea di rigore, è contraria al rilassamento, all'apertura della mobilità, a tutte queste manfrine alle quali stiamo assistendo, i comuni grandi, i comuni piccoli. Che dobbiamo fare a Natale, alla Vigilia, a Capodanno? Dobbiamo sapere che in questa settimana, in queste due settimane, noi ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Cioè decidiamo, nell'arco di una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un'ecatombe a gennaio oppure no. Siamo di fronte a un mese, il mese di gennaio, che è decisivo per due ragioni. La prima, perché avremo il picco influenzale fra fine dicembre e inizio gennaio. La seconda, è perché se abbiamo una ripresa forte di contagio e una esplosione dell'influenza normale, noi non avremo la possibilità di fare le vaccinazioni anti-Covid. E quindi, se non abbiamo un mese di gennaio sotto controllo, noi a Catena avremo un prolungamento del problema contagio per mesi e mesi. È chiaro il motivo per il quale dobbiamo avere la forza di essere rigorosi al massimo in questi giorni di feste. D'altra parte abbiamo visto alcune immagini, credo di Torino, ma anche di Milano, appena sono usciti alla zona rossa. Una valanga di persone nelle strade del commercio, della Movida. Possiamo anche deciderci di impiccarci con le nostre mani. L'importante è essere consapevoli dei problemi. La mia opinione è che dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le spinte demagogiche. Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri concittadini che quest'anno, Natale, Capodanno, non esistono. Devono essere giorni di raccoglimento familiare, devono essere giorni di raccoglimento religioso, ma non possono essere i giorni delle feste normali. Altrimenti andiamo al disastro.